Musica Ciao amici e benvenuti a Helping's Channel Oggi vi proponiamo una soluzione ecologica per eliminare le erbacce dal vostro cortile Con tre soli ingredienti realizzeremo un diserbante efficace e naturale Per realizzare il nostro diserbante serviranno 2 litri e mezzo di acqua 1 litro di aceto Mezzo chilo di sale La realizzazione è molto semplice Mescoliamo acqua e aceto Successivamente sciogliamo al suo interno il sale Travasiamo il liquido nell'apposito contenitore Basterà nebulizzare nelle zone interessate E nel giro di pochi giorni l'erbaccia sarà seccata E nel giro di pochi giorni l'erbaccia sarà seccata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti